Porte aperte al Canile di Arezzo per l'iniziativa Rifugio in Festa. Domenica 13 ottobre sarà infatti una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe, ospiti del Canile di Via della Cella, con un'apertura straordinaria al pubblico per una giornata ricca di iniziative. Questa apertura così particolare, proprio dalla mattina alla sera, con eventi dalla mattina alla sera, l'abbiamo pensata e sostenuta dall'Ufficio Ambiente del Comune, titolare di questo Canile, proprio per dare la possibilità, la mattina faremo con il punto di ritrovo alle 10, una camminata qui nei dintorni, ma con i nostri istruttori, con i volontari e quindi ci sarà modo anche di apprendere come si cammina correttamente con un cane e come ci si approccia con un cane in passeggiata. Seguiranno, offriremo delle ciacce fritte, fatte dal mitico Mario, e poi il pomeriggio alle 15 ritrovo per inizio di un seminario molto bello, dedicato ai bambini soprattutto, che dovranno proprio rapportare e imparare a relazionarsi con quello che io mi auguro un amico, anche futuro, a quattro zampe scelto qui in Canile. Anche un'occasione per conoscere gli ospiti del Canile. Certamente, però in più alle altre, diciamo, aperture, questa volta ci sarà proprio la possibilità da parte degli educatori specializzati, istruttori SUA e al veterinario comportamentalista, di proprio far valutare il proprio cane. Sono sempre tanti i cani e i gatti, ma anche altri animali che vengono accolti qui al Canile. Avete bisogno del sostegno di tutti, con tante iniziative, una di queste è il calendario dell'EMO. Sì, certamente. Io devo dire che questa parte, diciamo, si è particolarmente sviluppata grazie al sostegno di questo nuovo giovane consiglio di cui Lucia fa parte e insieme a Francesco hanno ideato questo bellissimo calendario. Credetemi, è un orgoglio avere questi giovani che dedicano del tempo e, devo dire, soprattutto trovano delle tecniche e dei modi per rendere questi nostri ospiti del Canile ancora più accattivanti ed ancora più ruffiani, tra virgolette, e quindi speriamo veramente in una grande, grande vendita. Si possono acquistare qui, in Canile, quindi aiutateci. Grazie.